Veronica Panarello sarebbe stata lucida e cosciente mentre uccideva il figlioletto Loris. Per la Cassazione la donna, condannata a 30 anni di carcere, sapeva perfettamente cosa stava facendo il 29 novembre del 2014 a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che non versava in stato confusionale come la stessa ha cercato di far credere, ma al contrario era perfettamente cosciente e orientata nell'attività di eliminazione delle tracce, del commesso reato e di depistaggio delle indagini. Proprio nelle ultime ore la Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza relativa all'udienza che si è svolta lo scorso 21 novembre e che si è conclusa con il rigetto del ricorso della difesa della Panarello contro la condanna a 30 anni di reclusione inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania nel 2016. Per questo motivo, secondo il parere dei giudici, la donna non avrebbe diritto ad alcuna attenuante. Nessuna amnesia dissociativa, ma la condotta posta in essere dall'imputata subito dopo l'omicidio del figlio risulta lucidamente finalizzata al depistaggio delle indagini che sarebbero inevitabilmente eseguite una volta scoperta la morte del bambino. Con l'immediata, si legge nella sentenza, risoluzione di disfarsi del cadavere del figlio buttandolo in un canale in una contrada periferica con la simulazione di una violenza sessuale ai danni del piccolo con il disfacimento degli oggetti adoperati per commettere il delitto o comunque a esso riconducibili.